Bella raga, sono Femme e Maria e siamo al primo video di oggi, faremo il vlog del film Bug Eriot e di Bug Eriot ne ho fatti una frega, ovvero Bug Eriot 1, 2, 3 e 4 ah boh, il primo è stato bello pure perché fanno vedere che prima Bug voleva essere un orso di città ma poi la padrona l'ha portato nella foresta e alla fine è diventato un orso di città adesso andiamo col secondo, qui fanno vedere che dovranno salvare un loro amico Viusterlini che è un cane perché un cane vuoi stare nella foresta, non lo so, ma fa ridere lo dovranno salvare anche se verso la fine vorrà restare con i suoi amici cani nel terzo Bug andrà in un circo perché i suoi amici l'hanno evitato perché avevano tante cose da fare e alla fine lui va in questo circo, si innamora di un'orsa che si chiama Ursa e poi alla fine lei e Bug vanno sulla foresta e l'orso gris che aveva il post con Bug rimane al circo con l'amico che era il nostro nome dell'animale ah boh, lasciamo sto nel quarto che è stato fatto nel 2015 ovvero il mistero della foresta non lo so quando è stato fatto e anche è bello questo Bug è già andrà in una grotta e Bug ha moltissima paura molta comunque raga vorrei salutare in questo video Terminator 124 poi Bug ha mai lui Santia come non bevo e il vostro caro Mike quindi raga ci rivediamo al prossimo video ciao